Musica Musica all'ospedale San Donato di Arezzo con il concerto di Natale, l'ultimo appuntamento all'auditorium Pieraccini per il 2017. È un'iniziativa che offriamo tutti gli anni alla cittadinanza ed è uno dei concerti di maggior spicco del cartellone della stagione concertistica per l'ospedale San Donato di Arezzo. Perché l'ospedale, la nostra scuola l'ha scelto per riaprire le porte alla musica veramente a tutti, compresi i degenti, comprese tutte le persone che si trovano a camminare per l'ospedale per andare a trovare i malati, a chiunque voglia venire al nostro concerto. Queste iniziative si svolgono circa da dieci anni, infatti la nostra scuola ormai vanta un'attività decennale. Musica classica ma ovviamente anche testi natalizi. Il concerto prevede due parti, la prima l'ensemble di fiati, percussioni e voci e nella seconda parte l'orchestra di archi che è stata recentemente fondata da Carmelo Giallombardo, iniziente della nostra scuola. Musica classica ma ovviamente